Ciao a tutti ragazzi, io sono GigerX96 e oggi siamo ritornati con un nuovissimo video di Fortnite Oggi siamo qui con lo shop di Fortnite Abbiamo la skin Deo della season 13 con gli stili, questi qua sono appunto gli stili che si possono scegliere, guardate qua che bella skin Abbiamo ibrido di stelle della season 3 800 VBAC per acquistarla Abbiamo nostalgia di casa della season 13, fa parte del set viaggiatore antico e 500 VBAC per acquistarla Poi abbiamo Johnny C il naugrafo, ah raga vi piace pure il bug del backpack di Doctor Doom Ah beh, Johnny C il naugrafo, più che naugrafo con il mantello sembra un nobile Però 800 VBAC per acquistarlo Poi abbiamo Calia da 1200 VBAC della season 3, 1200 appunto per acquistarla, fa parte del set, il guerriero dell'isola Poi abbiamo Ascia Tropicale, fa parte del set guerriero dell'isola, prima apparizione in season 3 500 VBAC Poi abbiamo la skin Milite Giocattolo, fa parte del set soldatino della season 9, primo stile, secondo stile e terzo stile ragazzi Poi abbiamo Pattugliatore di plastica, poi abbiamo giocattolo verde, giocattolo grigio e giocattolo rossa da 400 VBAC Poi abbiamo il ritorno del Cavaliere del Ragno da 2000 VBAC per acquistare questo mostro Se avete la fobia dei ragni ragazzi mettete un bel mi piace Abbiamo anche Arachno, la nostra ragno femmina, così possiamo dire, della season 6 Pure questa è della season 6, si Poi abbiamo Rompitele, 800 VBAC Abbiamo Cucciolo, questo mega ragno super spaventoso per chi ha la fobia dei ragni Poi abbiamo Safari da 1200 VBAC, primo stile e secondo stile senza via il cappello appunto Fa parte del set il più selvaggio West della season 13 Abbiamo ancora la skin Artigliere Bruto della stagione X, 800 VBAC per acquistarla Abbiamo la nuova VRAP sala giochi da 500 VBAC per acquistarla questa VRAP animata e reattiva ragazzi Poi abbiamo tutte le motte da 200, vabbè alza il tetto Della season 11, abbiamo Giubilo E poi abbiamo Ululato E lo shop di oggi si va a concludere Qui anche con la skin E le motte di Capitano America Spero che questo video vi sia piaciuto Se così fosse stato lasciate un bel mi piace Vi ricordo di iscrivervi e di attivare La campanellina Noi ci vediamo con un prossimo video Ciao